Questo corso, realizzato secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, in collaborazione con FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, è diretto ai tecnici di riabilitazione equestre e agli operatori tecnici di riabilitazione equestre della FISE. Quale opportunità per integrare il loro percorso formativo ai fini dell'adeguamento dei loro profili professionali a quanto previsto dalle linee guida per gli interventi assistiti con gli animali. Saranno affrontati la regolamentazione del settore in Italia, i contenuti delle linee guida, il ruolo del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e verranno approfondite alcune esperienze di interventi assistiti con gli animali, con cane, gatto, coniglio e asino. Il corso si svolge interamente online, garantendo la massima flessibilità di partecipazione, di consultazione dei materiali didattici e delle risorse di approfondimento. Al completamento del corso, il discente sarà iscritto al portale Digital Pet, con il titolo di responsabile di attività a cura del Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali. Grazie. Grazie.